pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati saggi o stolti siamo nelle ultime tre domeniche dell'anno liturgico dove ci accompagnerà il capitolo 25 di Matteo con tre parabole che ci parlano delle cose ultime della meta della vita di come prepararci al nostro incontro ultimo con Dio vivendo bene l'oggi e queste parabole ci mettono in fondo davanti ad un fatto serio siamo nati per la vita per la luce siamo chiamati al cielo a vivere in pienezza ma il lieto fine non è scontato purtroppo la vita può essere sprecata possiamo perdere tante occasioni di bellezza e allora vale la pena lasciarci parlare al cuore dal vangelo per non fallire il bersaglio questa domenica abbiamo la parabola delle dieci vergini che si preparano all'incontro con lo sposo teniamo conto che ai tempi di Gesù c'era la consuetudine che le nozze si celebrassero di sera quindi il corteo degli invitati procedeva con le lampade accese questo ci ricorda che siamo nati per un incontro la nostra vita è sognata per la bellezza perché giunga a pienezza non siamo nati a caso non siamo frutto di un lancio casuale di dadi ma c'è un sogno un disegno d'amore su ciascuno di noi andiamo verso qualcosa di importante verso qualcuno da incontrare e questa percezione di grandezza questa intuizione di bellezza l'abbiamo sin da quando siamo piccoli pensate ad esempio alla famosa domanda cosa farò da grande ecco c'è la percezione di una bellezza di un qualcosa su misura per me ora di queste dieci vergini cinque sono sagge e cinque sono stolte le stolte veniamo a scoprire che hanno sì la lampada ma non hanno l'olio le sagge invece hanno preparato l'olio in dei vasetti lo sposo tarda tutte si assopiscono finalmente lo sposo arriva nel cuore della notte ma che succede che le stolte non hanno l'olio e non possono accendere le lampade chiedono alle sagge dell'olio ma quelle dicono no non basterebbe per noi e per voi andatevelo a comprare nel frattempo le cinque sagge entrano ma quelle stolte rimangono fuori cercando di comprare dell'olio arrivate trovano chiuso bussano ma lo sposo dice loro non vi conosco dobbiamo capire perché le stolte sono stolte e le sagge sono sagge cosa rappresentano questi vasetti d'olio due indizi nella tradizione giudaica l'olio rappresenta le opere buone che devono affiancarsi allo studio della legge diciamo così i piccoli atti d'amore un altro indizio ci viene dal vangelo nel linguaggio di matteo alla fine del discorso della montagna il saggio è colui che ha costruito sulla roccia cioè che ha ascoltato la parola di dio e l'ha messo in pratica lo stolto è invece colui che ha costruito sulla sabbia colui che ha ascoltato ma non ha messo in pratica dunque le sagge che hanno preparato quest'olio nei vasetti sono coloro che si sono preparate all'incontro con lo sposo che non solo hanno la lampada della fede ma hanno detto giorno dopo giorno i loro sì a dio alla sua parola i sì al bene hanno compiuto gli atti d'amore possibili dunque ogni nostro sì a dio alla sua parola ogni sì al bene è un vasetto d'olio riempito delle cose più semplici e quotidiane alzarsi la mattina puntuali farsi il letto ritagliarsi il proprio spazio per pregare fare bene il proprio lavoro il proprio dovere di studio sino a quelli più impegnativi fidarsi nella sofferenza non lasciarsi andare alla tentazione tendere la mano verso una persona che ci ha ferito non lasciarsi vincere dal risentimento è bello arrivare a fine giornata e chiedersi quali sono quei vasetti che oggi per grazie di dio ho riempito le stolte invece non si sono preparate a quest'incontro hanno vissuto in modo insipiente istintivo superficiale nel loro atteggiamento possiamo vedere due pericoli il primo hanno perso un sacco di occasioni guardate sembra una cosa da poco ma è molto profonda quante volte miei cari noi perdiamo tante occasioni belle è bello confessare i propri peccati il male commesso sarebbe però anche importante imparare a vedere il bene omesso quante volte inoltre sbagliamo tempo siamo fuori tempo non facciamo qui ed ora quello che dovremmo siamo altrove rispetto al vero bene soffrendo e recando sofferenza qualche esempio spicciolo magari il tempo di pregare e mi disperdo al cellulare e poi mi ritrovo ansioso frustrato angosciato sarebbe tempo di lavorare e mi disperdo a giocare e poi devo correre per recuperare sarebbe il momento di stare con la moglie il marito il figlio e invece sono lì che inutilmente lavoro gozzoviglio sarebbe il tempo di andare a trovare un parente anziano una persona bisognosa e invece sono lì a passare una serata oziosa insomma miei cari gli esempi si potrebbero moltiplicare il punto è perdere occasioni che non torneranno mai più indietro e vivere senza rendermene conto senza rendermi conto della grandezza di quelle cose apparentemente piccole inoltre miei cari il secondo pericolo che possiamo apprendere guardando l'atteggiamento delle vergini stolte è quello di assolutizzare il presente vivere come se non ci fosse un domani dimenticando la meta cioè l'incontro definitivo con dio se si vive solo per il presente miei cari si perde il senso dell'attesa e si diventa incapaci di affrontare le cose serie della vita che richiedono tempo per essere costruite risolte ma non solo ci si preclude ogni prospettiva dell'aldilà e allora ci si preoccupa solo di possedere di emergere di sistemarsi come ha detto il papa se ci lasciamo guidare solo da ciò che ci appare più attraente da quello che ci piace dalla mera ricerca dei nostri interessi la vita diventa sterile e non accumuliamo alcuna riserva di olio per la lampada ed essa si spegnerà prima dell'incontro con il signore miei cari non dobbiamo dimenticarlo costruire le cose belle è qualcosa che avviene nel tempo le cose serie importanti della vita non capitano si costruiscono giorno dopo giorno sì dopo sì pensate ad un mosaico è fatto di piccoli tasselli posizionati pazientemente uno dopo l'altro così è la nostra vita così sono le cose belle così è costruire un matrimonio così è l'educazione di un figlio così è la vita comunitaria non è qualcosa che capita già fatto ma che si costruisce giorno dopo giorno con i piccoli sì nel venirsi incontro nel volersi bene nel seminare una parola costruttiva nel saper attendere la crescita dell'altro e i nostri piccoli sì quotidiani sono così preziosi che santa teresina di lisioe arrivò a dire che anche raccogliere uno spillo con amore può salvare un'anima allora capiamo bene miei cari perché l'olio non può essere ceduto non perché le vergini sagge della parabola fossero avare ma perché nessuno può sostituirsi a noi io non posso dire di sì al tuo posto io posso pregare per te posso aiutarti ma non posso sostituirmi a te corrispondere a dio tocca a te farlo il signore ti offre la sua grazia il suo aiuto ti indica la via ma poi c'è sempre quel se vuoi quell'alzati e cammina c'è una parte che spetta a noi che spetta a te e dio scommette su di te dio ci chiama essere protagonisti della nostra vita e ciascuno ne è responsabile e lui ce ne chiederà conto io non potrei dirgli un giorno sì però lui l'altra l'altro no no il signore dirà figlio mio tu io ti ho sognato per essere un segno d'amore un riflesso del mio volto unico e ripetibile ti ho creato prezioso perché fossi segno della mia bellezza sei stato ciò che ho sognato dunque i miei cari concludendo capiamo bene che questa è una parabola seria importante ci ricorda che siamo in cammino verso un incontro verso una pienezza ma per giungervi preparati c'è da essere vigilante e da riempire ogni giorno i nostri piccoli vasetti del sì cogliere ogni giorno le piccole grandi occasioni che ci sono date per crescere per amare per fidarci di dio e allora come disse il papa il signore potrà anche venire mentre dormiamo ma questo non ci preoccuperà perché abbiamo la riserva di olio accumulata con le opere buone di ogni giorno che la vergine maria ci aiuti a vivere una fede operosa essa è la lampada luminosa con cui possiamo attraversare la notte oltre la morte e giungere alla grande festa della vita che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti